La stampa oggi di Forza Italia, preludio di tante altre per parlare di cose molto importanti che saranno decise di qui a qualche ora. La conferenza stampa di oggi rientra all'interno di una serie di eventi che Forza Italia a livello nazionale sta portando avanti e sta programmando. Annuncio già alla stampa e a tutti i cittadini interessati che l'uno e il due saremo in piazza con dei banchetti perché la nostra mission in questo momento è innanzitutto divulgare, ma divulgare con i nostri occhi, con le nostre parole e quello che in realtà di male sta facendo questo governo e soprattutto vogliamo creare anche una nuova rete di tesseramenti gente under 35 anni che si deve avvicinare a partito per dare una spinta innovativa a questa nuova Forza Italia che ormai da due anni i nostri rappresentanti sia provinciali che regionali, quindi l'onorevole Casino e il senatore Moles, stanno portando avanti. Per le decisioni delle prossime ore in Consiglio Comunale? Ecco, innanzitutto mi preme fare, è doveroso da parte mia una premessa, questo incontro che come ripeto era già programmato era stato previsto per mercoledì 21 di questa settimana ma in maniera molto spontanea ma doverosa e istituzionale abbiamo ritenuto opportuno per l'evento che tutti conosciamo spostarlo ad oggi ma non potevamo andare avanti perché i problemi restano, sono problemi che si avvicinano alla fine dell'anno, le scadenze economiche per tutti i nostri cittadini e i nostri rappresentanti. Abbiamo un problema grosso che è quello dell'Atari, un problema che stiamo cercando di risolvere anche se la risoluzione andava presa ormai già da diversi anni, era un problema quello della discarica di materia del conferimento più grande di quello che può apparire. Una new entry in Forza Italia. Enzo Acito. Sì, ho deciso la mia teneretà di prendere un impegno reale, concreto nella politica e credo di poter continuare a dare il contributo che ho dato dalla parte del settore civile alla comunità materana e a quelli che poi saranno gli impegni che eventualmente prenderò con loro. Quali sono le tematiche che a tuo parere bisogna affrontare in maniera più competente all'interno della nostra comunità? Sicuramente lo sviluppo, sicuramente il lavoro, sicuramente la costruzione di opportunità non soltanto per chi oggi ha un modo di vivere su questo territorio ma soprattutto per i ragazzi, per i giovani. Onorevole, da Roma a Matera, Forza Italia per affrontare quali tematiche oggi? Innanzitutto le tematiche del governo, questo governo del no, questo governo che non produce, questo governo che al nostro giudizio non porta benefici agli italiani. Poi chiaramente siccome oggi questo congresso provinciale viene fatto qui nella mia città a Matera mi sembra anche doveroso fare un piccolo passaggio su questo aumento indiscriminato della Tari che sicuramente vedrà nel prossimo anno chiudere diverse attività commerciali ed artigianali. Regione Basilicata e governo nazionale, quando secondo lei bisogna andare alle urne? A mio giudizio non si può tenere, torno a ripetere, una classe dirigente abusiva. Il mandato regionale è già scaduto e quindi a nostro giudizio bisogna votare il primo possibile. Una data utile che sicuramente si potrà avverare è quella del 10 febbraio. La settimana scorsa ho parlato di questo problema sia col Presidente Silvio Berlusconi sia col Presidente della Lega Matteo Salvini. Ho detto di questo pericolo che insorge qui in questa regione. Mi auguro che per chi li competete, quindi mi rivolgo al Ministro Salvini, faccia un decreto in ministeriale che elimini questo rischio che sarebbe l'ulteriore vergogno per una regione già da troppo tempo martoriata. E la manovra che Bruxelles ancora stenta ad approvare? Guardi, io le dico in due o tre punti perché noi siamo contrari a questa manovra di questo governo giallo-verde. Innanzitutto noi non siamo per una flat tax al 15% e soprattutto per tutte quelle imprese che non superano un reddito di 65 mila euro. Le faccio un piccolo esempio. Un piccolo imprenditore, un piccolo artigiano, un piccolo professionista che si avvia e raggiunge una dichiarazione di reddito di 65 mila euro ha dei piccoli benefici. Se io supero quella soglia anche di un solo centesimo, le aliquide schizzano vertiginosamente. Così come è già stato provato in altri paesi della comunità europea che la flat tax funziona se la aliquide è uguale per tutti, noi proponiamo una aliquide a 23%. Poi noi non siamo quel partito che dice no alla TAP, no alle grandi opere. Non vogliamo più aspettare che in Italia si avverranno altre tragedie come quella del Ponte Ammorandi e quindi noi siamo per un piano di investimento serio. Quindi noi siamo per l'innovazione tecnologica, 4.0 è un esempio. Siamo per le grandi opere, per le grandi infrastrutture. Quindi soltanto questo modo di pensare potrà rimettere in moto l'economia italiana. Non siamo per il reddito di stadinanza, noi siamo per il lavoro agli italiani.